Domenica 11 giugno, amministrative Carrara. L'11 giugno si vota così. Croce sul nome Francesco De Pasquale, croce sul simbolo Movimento 5 Stelle. E' importante mettere la X sia sul nome di Francesco De Pasquale e anche sul simbolo del Movimento 5 Stelle per poter dare il voto al candidato sindaco e alla lista del Movimento 5 Stelle. Preferenze per i candidati consiglieri. E' possibile scegliere uno o due candidati al Consiglio Comunale, scrivendone il nome e cognome. In caso di doppia preferenza dovranno essere necessariamente un uomo e una donna. Domenica 11 giugno, si vota così. Movimento 5 Stelle, sarà una liberazione. Movimento 5 Stelle, sarà una liberazione.